Abbiamo voluto sabato celebrare i 30 anni dell'oncologia di Pesaro nel territorio di questa provincia. L'oncologia di Fano è arrivata successivamente nel 1995 per cui Fano sono 23 anni. Abbiamo voluto ricordare il passato come l'oncologia è cresciuta in questi anni da un punto di vista strutturale, da un punto di vista anche di possibilità terapeutica. E' stata anche l'occasione per inaugurare il nuovo reparto di degenza dell'oncologia medica che è situato nel presidio di Muraglia. Aveva bisogno di un aggiornamento, avevamo delle grosse criticità sui servizi igienici. Siamo riusciti a ridisegnare un nuovo reparto, diciamo a misura d'uomo, perché abbiamo sei camere da un letto e due camere da due letti. Abbiamo sacrificato anche la camera del primario a vantaggio dei pazienti e questo mi fa onore. Che devo dire? Quando ho avuto l'onore e l'onere di dirigere anche Marche Nord e anche Pesaro, ho avvertito queste crescita. Il mio orgoglio è quello di averle segnalate alla direzione. Ho trovato una direzione attenta. La direttrice immediatamente è venuta nel reparto, ha fatto un sopralluogo, ha dato il via ai lavori e quindi anche la soddisfazione poi di aver visto la realizzazione di tutto questo. Avete anche sul campo dell'interventistica strumentale e della riabilitazione fatto notevoli passi avanti. Marche Nord e l'oncologia è all'avanguardia anche in questo. Direi di sì, è all'avanguardia per due serie di motivi. Innanzitutto abbiamo un modo nuovo di lavorare. Non è più l'oncologo che è l'unico attore nella cura di questa malattia, ma diciamo con i PDTA noi abbiamo la possibilità di interagire con tutti i specialisti che possono prendere in cura un paziente. Cosa sono i PDTA? Sono i percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali in cui oncologi, radioterapisti, radiologi, anatomopatologi, chirurghi, chirurghi d'organo, ma anche specialisti tipo pneumologo, neurologo, gastroenterologo, si affacciano per la cura del paziente. Ma non solo questi. Abbiamo altre figure altrettanto importanti che garantisce un percorso di psico-oncologia, la fisioterapia, le cure palliative. Per cui è un percorso personalizzato per questo paziente. Accanto a questo abbiamo i risultati che l'oncologia di proprio conto può fare nella cura di queste malattie. Sempre più parliamo di una terapia sartoriale, cioè una terapia che ricalca le caratteristiche biologiche di quella malattia in quel singolo paziente. Per cui sono veramente delle terapie personalizzate. Non le abbiamo per tutti i tumori, ma i risultati dove questa possiamo applicare sono veramente eccezionali.